La conferenza stampa che abbiamo il piacere di presentare come presidenza della Commissione Cultura e come intergruppo parlamentare ICAS. Presentiamo oggi un altro accordo importante tra Confrestauro e Anaci. Saluto il presidente di Confrestauro Alberto Rui, il presidente di Anaci Francesco Burelli e ovviamente tutti i presenti. Tra l'altro io vengo dall'aula dove ho appena votato il piano strutturale di bilancio di medio termine in Italia per i prossimi sette anni e quindi sono anche un po' più leggero e rilassato. Almeno le finanze pubbliche, ho contribuito a votare le prossime finanze pubbliche che sovraintendono a tutti i settori compresi quelli ovviamente dell'edilizia, del restauro e della cultura. Questa collaborazione credo sia una bella notizia per tutto il settore del restauro e della conservazione del patrimonio storico, artistico e italiano. I restauratori sono dei veri e propri custodi del patrimonio culturale e hanno quindi un ruolo fondamentale per il futuro della città, soprattutto nella visione della rigenerazione urbana che è un tema che ci sta molto a cuore e che seguiamo come Commissione Cultura e insieme al tema del 2%, la famosa legge Bottai e l'estetica pubblica, per cui stiamo rilanciando una nuova versione che prevede attraverso una legge a mia prima firma che nel caso nelle more non intervenga le infrastrutture, non vengano messe a disposizione degli appalti pubblici e dell'edilizia pubblica, il tema dell'abbellimento d'arte, dell'estetica e dei palazzi e del restauro, questi fondi vanno al MIC e vengono gestiti dal MIC. Quindi anche qui un intervento legislativo che va a innovare questo rapporto. Gli amministratori condominali immobiliari invece gestiscono molto spesso un patrimonio edilizio di grande valore storico e sociale. L'accordo che presentiamo oggi, che poi verrà illustrato e che noi ovviamente semplicemente patrociniamo, però il fatto che avvenga qui comunque vuol dire che c'è un consenso istituzionale, ribadisce l'importanza della formazione di nuove figure professionali proprio per la filiera e la condivisione dei progetti e le ricerche volte alla tutela del patrimonio edilizio italiano. La ricchezza culturale italiana non è rappresentata solo appunto dai grandi monumenti che auspichiamo sempre di più, dai musei, dai luoghi archeologici, che auspichiamo sempre di più poter valorizzare, aprire e riqualificare, ma anche proprio dal patrimonio diffuso lungo il suo territorio, i suoi centri storici, l'archeologia, in questo caso i palazzi che rendono ogni zona dell'Italia a suo modo particolare ricca di storia e tradizioni. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva che stiamo intraprendendo ormai da 24 mesi circa, proprio nei settori di competenza della settima commissione, proprio con Confrestauro, su questo aspetto della transizione tecnologica e culturale abbiamo voluto far luce facendo un'audizione di Confrestauro e potremo fare un'audizione in prossimo futuro anche di Anaci. Io credo nella gestione del patrimonio culturale italiano con un apporto sussidiario e proprio ieri c'è stato il Ministro Giuli che ha ribadito questo indirizzo, che è un indirizzo condiviso dal Parlamento, dalla maggioranza che anche rappresento, che è proprio un indirizzo sussidiario in base all'articolo 118 e anche qui, dopo appena aver visto l'approvazione di due leggi, una sulla pirateria digitale prima in Europa, poi sulla rievocazione storica, anche questa prima legge quadro in Europa, ora stiamo portando avanti la legge Italia in scena, che per la prima volta andrà a normare proprio il contributo sussidiario tra pubblico e privato, con la vigilanza del MIC, con l'innovazione della piattaforma digitale del MIC, che metterà in contatto offerta e domanda, e quindi i beni culturali pubblici che possono essere riqualificati, restaurati, valorizzati e messi a disposizione dei concessionari privati, ma anche quelli privati, e questa è la grande novità, per cui si potranno, nell'idea, nell'ipotesi di legge, che è stata già incardinata e inizierà domani, nella prossima settimana, ad essere affrontata in commissione, con una serie di corredo di audizioni, proprio la possibilità di dimore storiche, dei grandi proprietari privati, che hanno beni che possono essere dati in concessione, di iscriversi a questa piattaforma che verrà realizzata. Quindi è una novità, una rivoluzione sussidiaria, che rientra appieno negli indirizzi del programma che ci eravamo dati, sia di governo, sia appunto di maggioranza. Io credo che, nel ringraziare nuovamente tutti per essere qui, e anche l'iperattività del Confrestauro, che è diventata un soggetto di riferimento a livello nazionale, su questi temi, penso che queste rete di competenze complementari possa continuare a espandersi, perché più si rafforza il circuito sussidiario in questo ambito, e quindi l'ambito che va dal restauro alla concessione, alla gestione, alla valorizzazione dei beni pubblici e privati, e più si crea questa rete di valorizzazione e di tutela sussidiaria accanto al meraviglioso patrimonio edilizio monumentale italiano. Io vi ringrazio, passo ora la parola all'architetto Tommaso Tommasi. Prego. Grazie a tutti, grazie per la presenza, grazie all'onorevole Federico Mollicone per l'attenzione e costante che dà la nostra associazione, Confrestauro. Io ringrazio per l'accordo il presidente di Confrestauro, Alberto Rui, il presidente di Anaci, Urelli, e voglio dare alcuni dati che abbiamo recentemente avuto attraverso le nostre giornate di studio sia con Banca IFIS e con CNA di Mestre. Il comparto del restauro è un comparto importante. Arrivano i primi dati di quantificazione di quant'è il volume di affari e il volume di fatturato delle aziende. Secondo i dati di Banca IFIS che, secondo le ultime giornate di studio che abbiamo avuto insieme a Confrestauro e le varie scuole di restauro proprio nel mese di settembre, il concentrato allora della distribuzione delle sede legali nel territorio italiano per le aziende che lavorano nel settore restauro sono per il 44% tra Veneto, Lazio e Lombardia e le altre ricavi annui sono circa con ovviamente a livello nazionale il fatturato di 2 miliardi 800 milioni quindi è un comparto importantissimo nessuno aveva mai stimato e quantificato il fatturato del lavoro che fa il comparto del restauro quindi circa le 600 imprese presenti con certificazione nel territorio nazionale devo dire che sono dati importanti anche per quanto riguarda il PIB italiano e credo che siano dati che andranno a incrementarsi negli anni futuri questo lo dico perché è un piccolo una piccola osservazione per chi dice che la nostra industria è un'industria importante si può dire industria perché è un'industria che andrà sicuramente implementata nei prossimi anni con una crescita che dà dal 15 al 20% dal 2024 al 2026 quindi nei prossimi anni Anaci certamente è un comparto importante perché darà un incremento anche con questo accordo che noi abbiamo stipulato e che andremo questa giornata a firmare e sicuramente darà un un incremento importante a questo al business del restauro che è un certo un comparto la valorizzazione con attenzioni ma con sempre più imprese che portano a avere le certificazioni di restauro che sono la OG2 e la S2 e tutte le varie certificazioni SOA che servono ovviamente per poter operare nel campo della valorizzazione del patrimonio ecco questo è un piccolo escursus che ho dato per sensibilizzare tutti e per sensibilizzare anche a quel mondo esterno che non ci percepisce ancora per quell'attività importante di sensibilità nel territorio di valorizzazione del patrimonio architettonico grazie passo ora la parola al presidente nazionale di Confrestauro Alberto Rui buongiorno a tutti per me è un onore essere qui oggi presso la sala stampa del palazzo Montecitorio per questa importante presentazione di questo accordo tra Confrestauro e Anaci vorrei intanto iniziare il mio intervento ringraziando ovviamente l'onorevole Federico Mollicone che ci ha già sostenuto e battezzato all'aprile del 2023 una conferenza stampa proprio fatta qui in questa aula ringrazio poi Tommaso Tommasi la nostra persona di riferimento per quanto riguarda i rapporti istituzionali e ovviamente ringrazio il presidente Inger Burelli di Anaci per la sua presenza e per la sua entusiasmo la sua entusiasma visione che ci ha guidato verso questo accordo per me è un onore rappresentare Confrestauro in questa importante occasione dove oggi sigliamo un accordo che segna un passo fondamentale per il nostro settore e per il patrimonio culturale del nostro paese come molti di voi sanno il nostro paese Italia è un patrimonio ovviamente di storia di arte e di cultura e quindi abbiamo la responsabilità di tutelare di valorizzare questo immenso tesoro Confrestauro come associazione di promozione sociale ha sempre avuto come obiettivo quello di rappresentare e promuovere il settore del restauro della conservazione del patrimonio culturale siamo fermamente convinti che il restauro non sia un'attività solo di ripristino ma una forma d'arte e un'occasione per raccontare una storia preservata nell'entità del nostro paese oggi con la stipula di questo accordo con Anaci ci troviamo in una posizione privilegiata per affrontare insieme sfide che ci attendono oggi celebriamo la nascita di una grande collaborazione con questa associazione con Anaci questa intesa non è solo un accordo formale ma rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di sinergie di rete e di competenze tra professionisti del settore e di amministratori di condomini immobili la nostra missione comune è quella di promuovere tutelare il patrimonio artistico e culturale dell'Italia che non è solo un tesoro da costudire ma una risorsa inestimabile per lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese il restauro quindi non è solo una questione tecnica prettamente tecnica ma è anche un atto d'amore una responsabilità verso la storia e la nostra identità e il nostro futuro l'accordo che stiamo presentando oggi ci propone di creare un quadro operativo nel quale possiamo quindi condividere le buone pratiche le esperienze e le risorse per affrontare insieme le sfide che il nostro settore ci attende quindi tra i principali ambiti di questo accordo sicuramente è la formazione è un altro pilastro su cui vogliamo investire attraverso tirocini stage verso le nostre aziende potremo formare una nuova generazione di professionisti competenti e appassionati pronti a raccogliere i testimoni della nostra tradizione inoltre l'organizzazione di eventi di iniziative divulgative sarà un modo per accrescere la consapevolezza dell'importanza del nostro patrimonio quindi la partecipazione a fiere a manifestazione presentando congiuntamente i risultati delle nostre ricerche e i progetti contesi dell'istituzione e delle accademie in conclusione desidero sottolineare che questo accordo rappresenta non solo un impegno reciproco ma una vera e propria promessa al nostro patrimonio culturale e alla nostra valorizzazione siamo quindi a garantire siamo qui a garantire che le future generazioni possano non solo vedere ma anche vivere e comprendere la ricchezza della nostra cultura grazie per la vostra attenzione grazie al presidente Rui e ora passo la parola al presidente Burelli grazie e volevo ringraziare il presidente chiaramente Mollicone perché è stato non solo disponibile ma anche molto gentile con la sua presenza perché di solito c'è un proverbio che dice chi vuole va e chi non vuole manda si vede che lui vuole e quindi non ha mandato nessuno è venuto quindi questo è già un merito di partenza quindi noi sicuramente questo merito di partenza lo riconosciamo subito perché questo accordo questo accordo nasce da una serie di considerazioni oggettive noi non possiamo pensare che la nazione che ha il più alto grado di beni culturali che ha il più grande patrimonio sotto l'UNESCO che ha il più grande patrimonio di edifici storici sia lasciato i presepochisti e i polavoristi a persone che non hanno il minimo di conoscenza di cosa sia non solo un restauro ma anche una manutenzione conservativa che sono due cose diverse pochi sanno e pochi conoscono il DPR 380 del 2001 le lettere A, B, C e D quindi già come si dovrebbe approcciare le varie case dicevo a qualcuno prima che il problema non è restaurare la casa storica o la casa sotto la soprintendenza decreto legislativo 42 del 2004 ma la cosa importante quindi da cambiare sono 20 anni lo stiamo cercando di rivedere ma la cosa importante è restaurare ma non tentare le case nella sua semplicità e nella sua modestia anche saper restaurare che è una cosa fondamentale per fare questo ci sono tre cose importantissime formazione conoscenza e competenza e questa conoscenza competenza e formazione si ottiene solo facendo un percorso il percorso è il percorso formativo c'è chi ha fatto le scuole è d'obbligo e le ha fatte in una determinata maniera che ha fatto l'architetto l'ingegnere e chi ha fatto la scuola d'arte ma c'è la sensibilità che è ancora qualcosa in più rispetto a quello ma poi ci sono delle regole quindi i comuni dovrebbero riuscire a regolamentare attraverso quel provvedimento ma io sono sicuro che l'onorevole Molicone da quello che ho sentito prima ha la sensibilità giusta magari per fare anche un provvedimento magari si riesce anche a modificare nella sua legislatura quel decreto legislativo 42 del 2004 che andrebbe modificato sono 20 anni quindi qualcosa bisognerebbe fare e se si mettessero delle regole un po' più non dico restrittive ma regolamentate all'interno dei comuni che per fare una certa cosa e per fare una certa manutenzione ci va prima un'analisi preventiva ad un esperto che sappia che cosa fare e che tipo di manutenzione fare perché adesso sono tutti bravi con l'intelligenza artificiale e la manutenzione predittiva lo dico all'intelligenza artificiale cosa fare la maggior parte di cose sono tutte ciucche non sanno neanche che tipo di intervento e poi un'attenzione particolare ai materiali perché i materiali li stanno controllando poco ma i materiali sarà il futuro i materiali sono importantissimi i materiali sono diciamo così la consapevolezza che quel materiale sia integrato su quelli che sono gli intonici esistenti la calce o quello che sono quindi c'è tutto un percorso perché questo accordo e questo accordo fa parte di queste cose che ho detto ma l'accordo più importante la cosa più importante è che io quando faccio gli accordi miro alle persone quindi io ho mirato subito la persona visto che il dottor Alberto Lui era la persona eravamo subito in simbiosi eravamo subito in diciamo così in sintonia su quelle che erano le cose che bisognava fare per alzare il livello della qualità di quello che noi vogliamo fare il patrimonio pubblico che è 1 a 10 rispetto al patrimonio privato tenete conto che in Italia ci sono circa 1 milione e 300 mila condomini e ci sono circa 42 milioni di italiani che vivono in condominio quindi in questo bailame di cose che c'è e Anaci è presente in tutte le città d'Italia ci sono tantissime cose storiche importanti che vengono manuntentate da un uomo con la cazzola che non sanno neanche da dove iniziare neanche da dove iniziare e l'abbiamo visto anche sul super bonus abbiamo messo dentro professionalità avevamo 600 mila persone in meno di quello che ci servivano abbiamo messo delle professionalità tanto per metro perché dovevamo terminare tutto entro il 31-12 perché se non terminavamo tutto entro il 31-12 iniziavamo a pagare delle sanzioni e c'erano delle cose che non andavano bene non funziona bisogna fare dei programmi certi bisogna fare delle formazioni certe bisogna dare la possibilità di investire bisogna dare la possibilità di fare delle formazioni e visto che stamattina ho conosciuto un'altra persona che si interessa anche di questo che non è una parte trascurata e quindi la conservazione dei nostri beni passa anche attraverso l'illuminazione che poi vuol dire anche illuminare bene un libro vuol dire leggerlo meglio illuminare bene una casa vuol dire rendere certe volte anche onore ai colori che gli diamo le sfumature dei colori alla sensibilità con cui noi facciamo le cose quindi tutto questo io l'ho notato e l'ho visto in Alberto Ruiz ci siamo sentiti un attimino in poco tempo in giro di due volte che ci siamo visti vi ho detto ma perché non facciamo un accordo lo portiamo diciamo ma lo possiamo portare alla Camera conosco il Presidente della Commissione del Ministerio che possiamo fare ho detto già fatto per me è già fatto quindi ci abbiamo lavorato abbiamo già iniziato a fare qualche approccio siamo andati a Firenze tanto per andare a un posto qualunque abbiamo iniziato a fare un convegno a Firenze oggi il Presidente non è potuto venire perché si è ammalato all'ultimo momento ha preso un'influenza brutta però ci sarà e quindi andremo Roma, Torino, Milano Lumbria, Viterbo andremo a Perugia andremo in tutte le città d'Italia per andare a dire come si fa e faremo anche una linea guida andremo a fare una linea guida per gli amministratori questa è una cosa che avevo detto tra parentesi ma la dico ufficialmente così poi non mi posso tirare indietro perché poi gliela porteremo quindi ma non è che la facciamo dopo la facciamo dentro la legislatura la facciamo subito anche perché poi questa legislatura la facciamo lunga quindi anche sì anche sì esatto anche sì quindi facciamo il secondo volume quindi dicevo facciamo questa linea guida per dare agli amministratori perché gli amministratori sappiano come si affronta un problema di manutenzione come si affronta un problema di restauro come si affronta un problema di conservazione come si affronta un problema qual è la pratica che bisogna presentare al comune qual è la pratica che bisogna presentare alla soprintendenza quali sono i tecnici che possono fare quali sono gli artigiani che ci possono lavorare e quali sono le certificazioni che bisogna avere e soprattutto insegnare a molti amministratori che forse neanche lo sanno cos'è una stratigrafia cosa serve perché serve e perché quella stratigrafia magari ci dà delle indicazioni oggettive su quello che sono le vecchie cose che magari può darsi che fossero peggio ma molte di quelle sono migliori e magari possiamo migliorare quindi io credo che l'intelligenza collettiva della somma delle professionalità che noi possiamo mettere insieme nessuna esclusa che può salire sul ponteggio o non ponteggio ma tutte le professionalità che noi possiamo mettere insieme per migliorare i nostri fabbricati non è solo un problema di migliorare i nostri fabbricati ma è un problema di migliorare la nostra sicurezza dei fabbricati quindi prima la sicurezza dopo la diciamo così tecnologia perché utilizziamo la tecnologia per fare questi condomini smart poi risparmiamo energia viviamo bene quindi la vivibilità la sostenibilità di quella cosa e poi vedere le nostre città più belle lo vedremo adesso cosa succederà a Roma con il nostro Gibleo ma in futuro vedere le nostre città più belle fa meglio spendiamo meno con i vigili del fuoco che non corrono a demolire pezzi eccetera risparmiamo in sanità e soprattutto forse risparmiamo anche qualche vita umana quindi questo è l'accordo per cui io sono orgoglioso di farlo e sono sicuro che porterà i frutti grazie a tutti e ora credo che ci sia la formalizzazione dell'accordo quindi mi sposto e lascio lo spazio a loro prego no ma no lasciamo in mezzo no 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 tranquilli allora anche per i fotografi c'è qualcuno per fare foto in piedi così grazie a tutti 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 grazie a tutti